Hai capito gattino? Hai capito gattino? Oggi si va al Mac, oggi si va al Mac e si mangiano le McNuggets e non paghiamo, non paghiamo, stasera non si paga, stasera mangiamo e non paghiamo, hai capito? Stasera non mangiamo, cioè stasera mangiamo e paghiamo, cioè no, volevo dire stasera non mangiamo e paghiamo. Sono andata a svuotare il McDonald's, sono 9 nuggets, 1, 2, queste sono piccanti, 3, 4, sono 36 nuggets e queste sono tutte le salse che mi hanno dato, pagato tutto 8 euro. Poi vai al McDonald's e prendi 38 nuggets e paghi soltanto 8 euro più una marea di salse, ho preso 38 nuggets ovvero 4 confezioni da 9, adesso salsa piccante, piccante, buona cena, questa è una cena, 8 euro solo. Ho pure sputato, ma cosa c'è di più buona delle nuggets del McDonald's? Non lo so, adesso che costano 2 euro mi sembrano ancora più buone, non so perché, sono 36. Comunque vorrei far notare quanto la parte della cotoletta qua si stacca facilmente. Cioè l'ho già tolta tutta. Guardate questa nuggets, com'è strana, cioè sembra un coccodrillo, un serpente, non lo so cosa sembra, è strana, è strana, però me la mangio comunque. No ragazzi si può usare solo uno, però io ho usato i codici dei miei amici, cioè li ho chiamati, mi sono fatta dare i loro codici e mi sono fatta 4 volte la fila. Comunque ho questa salsa barbecue aperta, ma non è finita, questa è maionese, ho due salse hot, le nuove che sono uscite del McDonald's, ho un'altra salsa barbecue chiusa e questa salsa acro dolce, non ve ne faccio niente perché alla fine ieri ho usato questa che avevo a casa, le volete? Ve le do.